musica 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 c'è ne avevo visti eh grrrr ah slamato riproviamo musica 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 si è fottuto il verme l'ho visto mangiare ancora e due due sette sono un po' leggero per questa situazione però prima di cambiare faccio ancora una passata è un po' leggero è un po' leggero è un po' leggero è un po' leggero wow 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 avevo detto che doveva funzionare questa tecnica qui anche nei posti grandi stai lì buono si c'è tutto stai lì buono non è stato facile comunque qui di corrente ce n'è parecchia però prima l'ho slamato ma è partito che era infermabile e poi con un po' di pazienza ho dovuto anche cambiare la testina perché ho messo sulle BKK da 5 grammi perché non ce n'è tanta di acqua perché lì forse non arriva il metro però va via troppo veloce ma che bel barbolone una sifula eh sì quando faccio fatica a prenderli in mano si possono chiamare sifule grazie